Parla di un avvenimento, di un episodio avvenuto realmente qui a Porto Santo Stefano, coinvolge un po' tutta la comunità perché è legato a quella che sarebbe diventata, anzi già lo era, la fonte economica più importante del nostro paese, cioè il turismo. Porto Santo Stefano, giugno 1906. Azzaria Lattes, sindaco ebreo di Monte Argentario, viene trovato morto davanti al portone di casa con una pallottola piantata in testa. Così si apre il caso Lattes, un romanzo a fumetti realizzato da Marco Cosentino, Gualtiero della Monaca e Carlo Rispoli, un romanzo grafico che si basa su un caso realmente avvenuto già raccontato nell'omonimo romanzo dello stesso della Monaca. Tutti i giornali del centro Italia ne parlavano e ne parlavano come un misterioso omicidio per cui la stagione balneare era messa a rischio perché non era bello venire in vacanza dove girava un ipotetico assassino. Era importante scoprire al più presto come sono andate le cose e quindi arrestare l'eventuale colpevole. Fare questo contrasto fra la stagione balneare in arrivo e l'omicidio che era avvenuto dà questa lettura un po' particolare. Il lettore già si immedesima in una situazione che non è di festa. Mi piace sicuramente anche il colore nei fumetti però sicuramente in questo caso qui abbiamo privilegiato il discorso di bianco e nero anche perché abbiamo concordato insieme questa forma di scrittura.